Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La pillola che vi vado a raccontare oggi ci viene in realtà creata, nasce, da un'idea di Emacoba che per una volta toltisi i pesanti panni dell'esploratore spaziale, posato il casco, gli stivali, la tuta, si mette dei panni decisamente più leggeri e ci accompagna indietro nel tempo, fino alla fine del XIII secolo, in particolare al 1291, per raccontarci una storia che, un po' come quella dell'esplorazione spaziale, parla però di uomini che tentano qualcosa di incredibile, tentano un viaggio che nessuno ha mai tentato, tentano di spingersi in terre, in luoghi, che nessuno conosce. Siamo abituati a pensare al XIV, al XV secolo come i periodi delle grandi esplorazioni, come il periodo in cui l'uomo, i portoghesi, gli spagnoli, i francesi, gli inglesi, con poche briciole lasciate agli italiani, si spinsero oltre l'Europa, diretti verso l'Africa, verso l'Asia e poi verso le Americhe. La storia di oggi però ci mostra come l'idea che ci potessero essere delle strade diverse da quelle mediterranee avevano già colpito l'uomo nel corso del Medioevo e avevano investito quella che era all'epoca una delle più grandi e ricche repubbliche marinare del Mediterraneo, cioè Genova. La storia di oggi ci accompagna lì, ci accompagna a bordo di due navi, di due galè, comandate da due fratelli, i fratelli Vivaldi, che nel 1291 tentarono quello che potremmo definire veramente un folle volo, partire da Genova, partire dal Mediterraneo per raggiungere le Indie. Seguendo quale strada? Beh, non lo sappiamo, ma proveremo a ricostruirlo insieme. Il XIII secolo è un secolo di ricchezza e potenza. È un secolo che precede l'arrivo della peste nera, che decimò la popolazione europea e la rispinse indietro letteralmente di secoli. È un secolo in cui le potenze marinare spadroneggiavano nel Mediterraneo e si contendevano i commerci più ricchi a costo di battaglie fra di loro e battaglie contro invece i potentati musulmani che governavano il Nord Africa. Genova nel 1291 era una di questa repubblica marinare e insieme a Venezia oramai era quella più potente. Anzi possiamo dire che in questo periodo fosse in effetti Genova a farla da padrone. e soprattutto dopo essere riuscita a sconfiggere la sua più vicina competitrice, cioè la Repubblica di Pisa. In questi anni Genova però aveva un problema. I suoi rapporti con l'Oriente, rapporti che in effetti si stavano progressivamente sviluppando dopo i primi viaggi che dall'Europa avevano raggiunto la corte del Cano in Oriente, Marco Polo e poi tutti coloro che l'avevano seguito, i suoi rapporti con l'Oriente si erano infatti bruscamente interrotti, perché l'ultima piazzaforte cristiana in Terra Santa, che oltre che essere una piazzaforte militare aveva anche scopi commerciali, era infatti caduta, la famosa caduta di San Giovanni d'Acri, e in questo modo i cristiani avevano perso ogni porto sicuro in Oriente. Certo, i genovesi si erano affrettati esattamente come i veneziani a siglare accordi con i sultani locali, ma ovviamente questi accordi erano dispendiosi, erano sempre a rischio di essere interrotti, erano spesso soggetti a pirateria, nonostante la forza della marina genovese, insomma erano rapporti difficili e a rischio. Per questo iniziò a serpeggiare l'idea che si potesse cercare una via alternativa per raggiungere le Indie, che dopo tutto non era necessario continuare a passare per l'Oriente del Mar Mediterraneo, ma che invece si potesse in qualche modo raggiungere le Indie, come venivano chiamate, ma quell'obiettivo probabilmente era più che altro la Cina, attraverso altre vie. Ora, sappiamo che all'epoca l'idea che si è poi sviluppata nei secoli successivi, secondo la quale nel Medioevo tutti credessero una terra piatta, fosse assolutamente falsa. All'epoca era assolutamente noto che la terra fosse sferica, la sua dimensione era già stata calcolata in epoca greca e grossomodo molti sapevano di questa dimensione, magari in futuro dedicherò una pila o una peristoria a questo argomento, ad ogni modo tutti sapevano che vi dovevano essere delle vie alternative per raggiungere le Indie. I fratelli Vivaldi, Ugolino e Vadino o Guido Vivaldi, erano in effetti due genovesi, due armatori, due esperti uomini di navigazione, avevano peraltro partecipato anche alla battaglia della Meloria, che proprio tra 1290 e 1291 progettarono un viaggio di questo genere. Lasciare Genova, non diretti verso Oriente, ma bensì verso Occidente, passare le colonne d'Ercole e in qualche modo cercare la rotta verso l'India. La rotta delle colonne d'Ercole non era così facile all'epoca, mettiamolo ben incontro, la Spagna non era ancora stata completamente riconquistata, quindi Gibraltar era in mani musulmane, così come era in mani musulmane in Nord Africa, Nord Africa peraltro in quel periodo, in particolare il sultanato del Marocco, in guerra commerciale e anche militare con la Repubblica di Genova, ma lentamente Genova era riuscita da qualche anno a riaprire una rotta che passasse attraverso le colonne d'Ercole, ovviamente non diretta verso sud o verso ovest, ma bensì diretta verso nord, verso il canale della Manica, verso i ricchi mercati delle Fiandre. Una rotta che comunque era nuova, ma che aveva aperto l'idea di poter seguire questa rotta anche per dirigersi verso altre direzioni. I due fratelli avevano in effetti un progetto di questo genere e riuscirono ad ottenere i finanziamenti da parte della famiglia Doria, una delle più famose e ricche famiglie di mercanti genovesi, la quale finanziò con 750 lire dell'epoca questa spedizione. Fornì ai due fratelli due galee, due galee che vennero armate con 150 tra rematori e accompagnatori, fornirono tutto il supporto economico necessario dandogli vettovaglie, armi, tutto quello che poteva servire e addirittura intercedendo affinché ad accompagnare questa spedizione fossero due frati minori. Perché due frati? Beh, all'epoca, dopo le prime spedizioni verso l'Oriente, era diventata una prasse abbastanza comune, ovviamente no, non succedeva tutti i giorni ma capitava, che venissero inviati dall'Europa verso l'Asia dei frati, il cui scopo era da una parte mantenere aperti i contatti soprattutto quelli diplomatici, dall'altra iniziare una certa opera di evangelizzazione dei territori controllati dai mongoli, opera di evangelizzazione che ovviamente non aveva dato particolari risultati ma che in qualche modo aveva permesso a questi ordini monastici di acquisire una certa conoscenza e delle lingue, ma soprattutto degli usi e dei costumi delle corti orientali, cosa che sembrava poter essere utile dal momento che nel momento in cui si fosse giunti in Oriente sarebbe stato necessario trovare degli accordi commerciali che bypassassero completamente la via della seta e tutti gli intermediari in mezzo. Preparati a questo punto, i due fratelli decisero di volgere il loro pluvio verso l'Occidente e nel maggio del 1291 partirono diretti verso le colonne d'Ercole. Quello che ci rimane del loro viaggio è solo nei mesi successivi. Si fermarono infatti alle Baleari, qui si fermarono anche per motivi commerciali, ripresero e passarono le colonne d'Ercole e quindi si spinsero verso sud, giungendo probabilmente in vista delle Canarie. Dalle Canarie però del loro viaggio non sappiamo più praticamente niente. Le ultime notizie infatti parlano proprio di questi luoghi, o delle isole in sé o della costa africana proprio prospicente alle isole. Un territorio che adesso ci sembra molto vicino all'Europa, ma che in realtà all'epoca era già praticamente terra incognita, anche perché le Canarie saranno sia raggiunte da un genovese, e definitivamente aggiunte alle cartine, ma solo qualche anno più tardi. Genovese peraltro che si chiamava Lanzerotto e che darà il nome proprio all'isola di Lanzarotto. Ve lo lascio come curiosità. Ovviamente, non essendo mai tornate le navi, noi non abbiamo i loro resoconti. Come sappiamo allora di quest'ultimo punto di avvistamento? Beh, lo sappiamo grazie agli scritti proprio della famiglia Doria, che tre anni più tardi, nel 1294, riportando proprio della spedizione, probabilmente anche per segnare la perdita fino a quel momento del denaro, riportano che le ultime notizie parlano delle galee che sono giunte proprio a quell'altezza e che poi sono ripartite verso le Indie attraverso il mare oceano, letteralmente, unica definizione che viene data, e non hanno più fatto sapere nulla di loro. Ovviamente dopo tre anni ancora sperano che in qualche modo possano tornare. A questo punto però viene un dubbio. Noi non abbiamo ovviamente nessuna informazione su quale fosse il progetto originale dei due. E proprio per questo, negli anni successivi, gli storici hanno iniziato a creare una serie di teorie per provare a immaginare quale fosse la destinazione delle due navi genovesi e soprattutto quale sia stato l'esito. Esistono in effetti tre teorie. La prima, che è quella più diffusa, è anche probabilmente la più semplice. Le galee non erano navi da attraversare l'oceano. Probabilmente i due fratelli se ne erano accorti subito. Erano navi che erano ottime da essere utilizzate nel mar Mediterraneo, dove il vento non è forte, dove le onde non sono alte e dove i rematori delle galee permettono di continuare a navigare anche in condizioni di bonaccia, ma non sono così buone per navigare invece nell'oceano, dove ci sono tempeste, le onde sono più alte e dove le galee potevano avere grosse difficoltà a muoversi. Inoltre all'epoca la bussola non era particolarmente diffusa e questo voleva dire che l'unico vero modo per provare a navigare era continuando a costeggiare le coste e quindi probabilmente, e questa è l'ipotesi che si è maggiormente diffusa nei secoli successivi, i due fratelli dopo aver lasciato le Canarie avrebbero continuato a costeggiare la costa africana verso sud cercando un passaggio diretti verso oriente, cosa che li avrebbe dovuti portare fino al capo di Buonasperanza oltre per poi spostarsi verso nord. Questa è la prima teoria. Esiste però un'altra teoria secondo la quale questo viaggio invece aveva un altro obiettivo. Ve l'ho detto, nel Medioevo sapevano che la Terra fosse sferica e quindi secondo questa teoria il viaggio sarebbe dovuto partire dalle Canarie per attraversare l'Atlantico, diretti proprio verso ovest, quindi non verso est ma verso ovest, per tentare di raggiungere le Indie da quella direzione. Questa teoria in realtà non è molto apprezzata dagli storici. Certo è affascinante pensare che qualcuno, tra l'altro sempre un genovese due secoli prima di Colombo, quasi due secoli esatti, abbia tentato questo viaggio verso ovest, ma è difficile crederlo. Innanzitutto perché all'epoca si sapeva qual era la dimensione della Terra. Ora sappiamo che Colombo stimava una dimensione molto minore rispetto a quella esatta e che probabilmente viaggiò verso ovest anche basandosi su questo errore, credendo quindi che l'India fosse molto più vicina, meglio la Cina o il Cipango, il Giappone fossero molti più vicini. È difficile pensare però che i due fratelli, la famiglia Doria, tutti abbiano sbagliato di così tanto la dimensione della Terra e soprattutto che si siano avventurati con due navi del tutto non adatte al viaggio oceanico verso il mar aperto, senza nessuna possibilità peraltro neanche di capire perfettamente in che direzione stessero andando. Esiste una terza teoria. All'epoca le conoscenze dell'Africa, vi metto qua una cartina bellissima che è peraltro, poi vi racconterò dopo da dove viene, che racconta proprio quale fossero l'idea all'epoca dell'Africa. All'epoca le conoscenze sull'Africa erano molto molto scarne, anche perché si sapeva ovviamente qualcosa della parte nord, ma non si sapeva molto più a sud, tanto che addirittura c'erano delle teorie secondo la quali ad un certo punto, al livello dell'equatore, l'aria sarebbe diventata irrespirabile, non si sarebbe più potuti vivere a causa delle temperature e quindi era impossibile attraversare l'Africa. C'era quindi un'idea di un'Africa, come vedete, decisamente più schiacciata verso l'alto. Ma allo stesso tempo c'erano anche delle teorie secondo la quali dal lato occidentale dell'Africa partivano dei fiumi che attraversando tutto il continente nero si andavano poi a riunire nella parte orientale con dei fiumi, come ad esempio il Nilo, che erano conosciuti, permettendo in questo modo di trovare una via d'acqua che letteralmente passasse a meridione dei territori musulmani per raggiungere quei favolosi territori del prete Gianni che si devono trovare in Etiopia, in Nubia, in quella zona lì, e quindi in questo modo tagliare di molto il viaggio. C'è quindi la teoria che queste navi abbiano in qualche modo cercato di raggiungere uno di questi fiumi, e la teoria più accreditata parla del fiume Senegal, e che abbiano poi cercato in qualche modo di risalirlo diretti verso Oriente. Sono tutte teorie ovviamente, sono tutte teorie di cui non abbiamo nessuna prova, tranne dei resoconti, perché io mi sono fermato a 1294, ma in effetti nei secoli successivi esistono dei resoconti che danno delle piccole prove, dei piccoli indizi di quali potrebbero essere stato, quale potrebbe essere stato il destino dei fratelli Vivaldi. Attenzione, io lo ripeterò poi, ma la maggior parte di questi resoconti, dal punto di vista storico, sono praticamente nulli, e quindi sono più delle supposizioni, qualcosa che ha più un'idea che altro, piuttosto che delle vere e proprie prove. Ma è interessante anche per provare a capire quali fossero i ragionamenti che venivano fatti sul Medioevo secondo questa rotta. Una delle prime fonti a parlare di nuovo dei fratelli Vivaldi, in vie abbastanza traverse per carità, è il cosiddetto libro Deconossiniento, un libro scritto nella prima metà del XIV secolo, grosso modo tra 1320 e 1350, in Castiglia, non sappiamo bene né l'autore né l'anno di pubblicazione. Questo libro sarebbe sulla carta un racconto di viaggio, in cui lo scrittore racconta di avere a lungo viaggiato per tutte le terre del mondo e racconta che cosa ha visto. In realtà è assolutamente accettato che questo non sia un racconto reale. Lo scrittore non ha realmente viaggiato per queste terre, ma ha semplicemente riportato dei racconti che venivano fatti da altri viaggiatori, o molto più spesso li ha semplicemente inventati basandosi sulle cartine dell'epoca. Questo viaggiatore, però prendiamolo come vaga possibilità, racconta di aver incontrato, mentre si spingeva nei suoi viaggi, subito dopo la punta più meridionale dell'Africa, nel territorio che attualmente fa parte della Somalia, Mogadiscio, avrebbe incontrato un uomo genovese, un uomo genovese che si faceva a chiamare Ser Leone, il quale disse di essere figlio di uno dei fratelli Vivaldi e di trovarsi lì purtroppo da molti anni, dato che aveva seguito le rotte del suo genitore e di suo zio e nel 1315 aveva organizzato un viaggio proprio per capire che cosa fosse stato di loro, quindi parliamo di 24 anni dopo la loro partenza. Questo Ser Leone sarebbe proprio stato fermato in Somalia a Mogadiscio, avrebbe voluto però ripartire per dirigersi più a nord, perché aveva saputo che vent'anni prima una nave, perché un'altra aveva fatto naufragio, comandata da genovesi, era giunta proprio su quelle coste, si era poi diretta più a nord, ma qui era stata catturata, mentre cercava forse un passaggio verso il Golfo Persico, dai soldati del famoso Prete Gianni, cioè questo re cristiano, sacerdote re cristiano, che si immaginava all'epoca che vivesse, come vi dicevo prima, in Etiopia o in Nubia. Ora, ovviamente non c'è quasi niente di vero, certo che se lo fosse saremmo di fronte a un'indicazione del fatto che il viaggio dei genovesi aveva funzionato, che le loro galere erano riuscite addirittura a circonnavigare quasi completamente l'Africa, giungendo fino al corno d'Africa d'Oriente, che ormai fossero pronti al viaggio verso il Golfo Persico. Ci sono però dei problemi e delle prove. Ora, la cosa che salta all'occhio è questo nome, Ser Leone. In effetti, Ugolino Vivaldi aveva un figlio che si chiamava Sor Leone, il quale, e su questo abbiamo la documentazione, cercò a lungo di organizzare una spedizione per cercare di trovare che cosa ne fosse stato del padre e dello zio, ma non sappiamo se questa spedizione sia mai partita. Dall'altra parte, è difficile però pensare che non solo i prima, la prima, ma anche la seconda spedizione sia giunta così tanto avanti, molto prima di quanto fecero i portoghesi, oltre ovviamente a sapere che, lo sappiamo per certo, questo fantomatico regno del Prete Gianni non esisteva, esistevano dei regni cristiani in Etiopia, ma non esisteva questo fantomatico Prete Gianni. Non è questo però l'unico racconto che abbiamo. Un'altra indicazione, infatti, ci viene dal racconto di Antoniotto Uso di Mare, un esploratore genovese più o meno della metà del XV secolo, che nel 1445 scrisse che durante i suoi viaggi in Africa, senza meglio specificare in che zona, ma si pensa dato i territori che storava più o meno nella zona dell'attuale Senegal, il che farebbe ripensare a quell'idea del fiume Senegal attraversato, di avere incontrato delle popolazioni indigene, la cui pelle era molto più chiara rispetto a quelle dei vicini, quasi come se si fossero mischiati a delle popolazioni bianche provenienti chissà dove. Non solo, ma queste popolazioni indigene ricordavano di essere giunti con delle navi, una delle quale aveva fatto naufragio, mentre l'altra, dopo essersi fermata a lungo, e qui il motivo appunto della nascita di questi figli meticci, si era poi inoltrata lungo il corso del fiume. A completare il quadro, diceva Uso di Mare, questi indigeni parlavano una lingua che era molto simile al dialetto genovese. Anche di questo ovviamente non abbiamo nessunissima prova. L'ultimo ritrovamento è decisamente più recente e sarebbe stato fatto da Franco Prosperi, che è un regista italiano, scrittore, ha girato ad esempio Mondo Cane, famoso proprio per i film di genere mondo, come vengono chiamati, che erano questi film in cui venivano messe insieme immagini ricostruite, immagini reali del mondo, insomma, un genere che meriterebbe una pillola a parte, ma lasciamo stare. Ad ogni modo, Prosperi disse che nel 1953, mentre stava, era nella zona del fiume Zambesi, avrebbe trovato una roccia su cui erano state incise delle strane lettere. V, punto, V, punto, che sarebbe per Vadino Vivaldi, secondo lui, oppure per Vivaldi, Vivaldi, i cognomi dei due fratelli, 1294. C'è una data approssimativamente corretta per pensare che i due fratelli si fossero spinti così a sud. L'avrebbe fotografata, non ho trovato su internet l'immagine, giuro l'ho cercata tantissimo, ma non l'ho trovata, quindi prendetelo purtroppo con dovere d'inventario, lo raccontano gli stessi in un libro, ma purtroppo la roccia oggi non è più disponibile, perché dopo la costruzione di una diga si trovava in una zona che è rimasta allagata dall'invaso proprio della diga e quindi non sarebbe più disponibile, probabilmente il segno è stato poi cancellato via dall'acqua. Insomma, un'altra prova di cui non c'è praticamente nessun ricordo. Insomma, informazioni certe non ne abbiamo, prove nemmeno. È difficile pensare che un giorno potremmo ricostruire questo viaggio, probabilmente tutto ciò che c'era è andato perduto. Gli storici oggi sono abbastanza concordi nel pensare che sia realmente quasi impossibile credere che questo viaggio sia stato compiuto dalle due galee, che non erano navi in grado di compiere un viaggio così grande. Pensate solo che più di un secolo, quasi più di un secolo più tardi, i portoghesi ci misero quasi 60 anni di esplorazioni per riuscire a circonnavigare completamente l'Africa. Un viaggio lunghissimo che procedette per tappe e soprattutto dopo che i miglioramenti tecnologici avevano cambiato le possibilità di esplorazioni con la nascita di nuove navi adatte proprio alla navigazione oceanica. L'idea che si è diffusa maggiormente oggi è che questo lungo viaggio non abbia mai realmente avuto luogo. Secondo alcuni l'indizio definitivo che ci permetterebbe di capire, a meno di immaginare quale possa essere stato il risultato del viaggio, sta in realtà proprio in quel libro di conoscimento di cui vi ho parlato. Certo non la storia della Somalia, non la storia del prete Gianni, ma il dubbio che viene agli storici riguarda proprio la città di Mogadiscio, laddove l'autore avrebbe incontrato Sor Leone. Mogadiscio viene indicata con il nome con cui veniva chiamata all'epoca, cioè Mogdasor. Il dubbio è che in realtà questo Mogdasor sia giunto come gran parte del libro da dei racconti che sono stati fatti all'autore, il quale però nel trascrivere il nome abbia compiuto un errore, o l'errore l'abbia fatto nel nominarlo chi gli raccontava, e che abbia confuso Mogdasor, cioè Mogadiscio in Somalia, con il porto di Mogador, che si trova invece in Marocco, non molto lontano dalle Canarie. Questo potrebbe far pensare che il motivo per cui il viaggio si è interrotto poco a sud delle Canarie è che quei pirati marocchini di cui vi ho già parlato sarebbero intervenuti, avrebbero attaccato le due navi, avrebbero verosimilmente sconfitto i fratelli Vivaldi, li avrebbero catturati portandoli con sé in Marocco, vendendo probabilmente come schiavi tutta la ciurma e facendo così sparire la spedizione. E chissà che proprio Sor Leone non abbia raggiunto questo porto per cercare notizie del padre e dello zio, qualora fossero ancora in vita per cercare di riportarli a Genova. È bello però immaginare che solo una delle due navi sia stata sconfitta e che l'altra abbia veramente raggiunto il fiume Senegal e quantomeno abbia provato a spingersi verso l'interno o perché no abbia veramente circonnavigato l'Africa raggiungendo la Somalia. Niente ci vieta di provare a immaginarlo. Come niente ci vieta di immaginare che quando Dante nella Divina Commedia, nel 26esimo Canto dell'Inferno, parla di Ulisse e gli fa raccontare del suo viaggio verso Occidente, stesse pensando proprio a quel viaggio dei fratelli Vivaldi, che secondo molti in effetti era una storia molto nota e che era giunta anche alle orecchie di Dante stesso. E che dopo tutto quegli uomini che posero i remi e con i remi fecero ali al folle volo non fossero proprio i fratelli Vivaldi, con il loro folle volo verso l'India che anticipava di tanto tempo, un secolo e mezzo e più, anzi due secoli, i viaggi proprio verso, di esplorazione fuori dall'Europa. Bene, io mi fermo qua, spero che questa pillola vi sia piaciuta, devo dire era una storia di cui non sapevo niente e quindi io ringrazio veramente Makoba per avermela scritta e raccontata. Se volete riascoltare questa storia, volete riascoltare altre storie, potete farlo qua su YouTube, potete farlo nel podcast, in descrizione trovate il link, potete seguirci, contattarci, proporci o scriverci pillole come ha fatto Makoba sui nostri social, Instagram, Facebook, potete venire sul canale Telegram per discuterne. Se non volete invece perdervi le prossime pillole, non lo siete già, vi consiglio di iscrivervi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati. Perché dopo tutto, la cosa più importante è essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere, anche perché a volte è difficile ricostruire, ma merita veramente raccontarle. Se volete iniziare a curiosare tra qualcuna di queste storie, anche tra altre storie di esplorazione, qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite. Fino adesso, noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!